Sì, diciamo che possiamo giocare o uno alla volta o tutti e due insieme, sono a disposizione del mister, comunque scelta a faccia, sicuramente da Bonazzoli posso solo che imparare, aspettiamo e fiduciosi per l'inizio del campionato. Dal punto di vista fisico come stai? Un buon 60%, adesso è 11 giorni che lavoriamo, stiamo facendo carichi importanti, quindi le gambe sono un po' imballate, però abbastanza bene. Cosa ti ha portato a Siena? Sicuramente la piazza, la piazza è il mister, perché il mister è un mister importante, la piazza non si discute, è una piazza storica con una storia, quindi sicuramente questo. Grandi cose nella primavera della Juventus e poi nel calcio professionista qualche difficoltà? Sì, è uscito dalla primavera, sono andato a Novara, ho avuto subito un infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo quasi nove mesi, diciamo che sono stata un po' responsabilità mia, un po' per tanti infortuni. Siena qua come sta andando con i compagni, con il mister, questi giorni di lavoro? No, benissimo, ci stiamo integrando bene, come ho detto prima i carichi sono intensi, quindi stiamo facendo un po' più fatica del solito, anche oggi abbiamo fatto abbastanza fatica, però sono dovuti ai carichi di lavoro. Il modulo? Il modulo? Sì, 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 mi trovo bene, ho sempre giocato con questo modulo qui, quindi andiamo avanti così. Cosa ti aspetti da questa stagione, per te e per la squadra? Mi aspetto di lavorare sodo, giorno per giorno, in allenamento e poi la settimana mi darà ragione, poi dopo nei 90 minuti. Prego, ciao.